Ok, visto che a Copenaghen fa anche abbastanza caldo, si sta molto bene. C'è la neve finta, non so se la vedete, ma... Beh, non si vede un ammazzo dal telefono, però sembra che stia nevicando. Che carino! Ecco cosa, aspetta Luca i prossimi giorni, dovete sapere che lui ha paurissima di fare le montagne russe e tutte queste cose. E io invece a me piace tantissimo. Perché mi devi sempre dipingere come un coglione? Ma lo so, coglione, amore, sono un po' paura, vabbè, ma ci sta. C'è Luca che vuole convincermi che il suo cappellino è figo e cerca il qualsiasi modo per farmi vedere quanto è bello. E ora c'è il tocco finale, fa vedere? Ah, wow, amore. E ora che si è visto in video, gli piace ancora di più. No, non comprarlo. Ma dai, amore, ma non lo userai mai. Aspetta il numero. L'ha comprato. No commenti. Comunque perché mi dici che andavamo in programma un viaggio al curo nord, che così almeno ti difendono. No, l'abbiamo già fatta.